Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Mondi di Cubi Ragazzi sono dalla fam di Ferro per fare un attimino due conti che ho già fatto ma appunto vi andrò a spiegare Allora praticamente nell'ultimo episodio per chi se l'era perso abbiamo fatto la farm di villager La farm di villager appunto ci sfornerà dei villager che noi dovevamo mettere pur da qualche parte no? E ho pensato in vari punti dove metterli e uno di questi era appunto fare un piccolo villaggio sottoterra La cosa era appunto un'idea piuttosto carina però anche questo l'aveva già fatto Itoslab E quindi preferisco come al solito non copiare nuovi youtuber anche perché magari se qualcuno di voi lo segue può essere noioso rivedere le stesse cose E quindi volevo inventarmi qualcosa di più figo Che cosa ho pensato? Ho pensato di creare un villaggio in questa pianura che appunto ho calcolato 80 blocchi da questa farm E gli 80 blocchi finiscono esattamente in quel laghetto Quindi dopo quel laghetto noi possiamo cominciare a piazzare porte Piazzare porte e fare villaggi quindi Vorrei fare un villaggio appunto stile Ferre for the Wind Vi farò vedere tra poco cosa intendo con questa frase Adesso vi faccio giusto vedere che ho tappato il buco che appunto conteneva i nostri portali E appunto ho preso anche l'ossidiana, la glowstone, l'acqua e la clay che c'erano dentro E li ho riportati in casa Infatti abbiamo anche superato il numero di 64 pezzi di ossidiana Quindi abbiamo più di uno stack di ossidiana adesso E abbiamo anche piuttosto tanto smeraldo Tanto per modo di dire, ne abbiamo 9 pezzi Che comunque è abbastanza buono direi Infatti andremo poi a fare dei cubi di smeraldo E vorrei addirittura usarlo come blocco decorativo Se un giorno sarà possibile Dov'è? Eccolo qua Per chi non lo sa il blocco di smeraldo si crafta come tutti gli altri blocchi Ovvero così, vedete? E ha una texture diciamo leggermente diversa dagli altri blocchi Ma è molto carina E appunto adesso vado a rimetterlo a posto Dove era? Era qua Anzi mettiamolo come era proprio prima Perfetto E come vedete in mano Nella mia mano qua ecco Ho un pezzo di carbonella Che cos'è la carbonella? Per chi non lo sa la carbonella è del carbone Che vi faccio vedere Eccolo Questo qua è il carbone e questo qua è la carbonella Ehm... Praticamente è uguale la stessa cosa Fisicamente Ma in realtà E appunto come vedete Hanno delle texture leggermente diverse Anche se appunto la cottura è sempre la stessa Ma si ottengono in due modi diversi Ovvero il carbone si mina Sottoterra La carbonella si ottiene facendo cuocere del legno E a proposito di legno Ho cominciato a posizionare le casse Solo posizionare le casse Dell'impianto che riguarda Cioè dello smistamento Della parte dello smistamento Che riguarderà il legno grezzo Logicamente lo farò off camera Vado solo a testare con voi Lo smistamento della carbonella Appunto l'ho fatto anche questo qua off camera Cercherò di ridurre sempre al massimo La costruzione in questa stanza Ed eccolo qua C'erano 39 pezzi E appunto sono tornati Se volete facciamo ancora un ultimo test Giusto per essere sicuri Morriamo un po' a parte E arriva anche questa volta qui No non è arrivato Perché? Ok adesso è arrivato Ci ha messo un pochettino Niente ragazzi Direi che abbiamo tutto Adesso voglio fare una piccola cosa Ovvero andrò a decorare un attimino La nostra stanza per i villager Che avevamo costruito nello scorso episodio Logicamente farò un piccolo stacco E ci vediamo tra poco Ah ragazzi quasi dimenticavo Ho trovato degli altri diamanti E appunto lavorando sotto terra E quindi adesso andrò a incantare un piccone Si voglio incantare dei piccone in diamante Perché vorrei che uscisse qualche piccone epico E per giunta in diamante Comunque appunto andiamo anche adesso a incantare il piccone Anche perché ho 34 livelli E non mi sembra il caso assolutamente di accumularli troppo Allora incrociamo le dita Incrociatele anche voi Altrimenti non riesco a far uscire un bel incantesimo Incrociate Ebbene Vediamo un po' Siete dei grandi Avete incrociato le dita proprio ragazzi Bravi Bravi Sono contento di voi E' uscito Siltouch Più efficienza 4 indistruttibilità Beh non aggiungo altro Aggiungo solo che ci vediamo tra poco Perché appunto adesso andrò a fare la decorazione della caverna Ok ragazzi Rieccoci E la farm è ufficialmente conclusa Ma prima di andarla a vedere Devo contemplare ancora un pochettino questo piccone Troppo bello No ragazzi Indistruttibilità 3 Che è il massimo Efficienza 4 Che è il massimo 5 E tocco di velluto Ragazzi Non so chi di voi ha incrociato le dita Ma Lo adoro Comunque questa è la farm Conclusa E voilà Come vedete Ho lavorato molto col quarzo E con il legno Per abbinarlo All'epressor plate Inoltre In ogni agitatore Ho inserito Uno stack di cobblestone Niente ragazzi Questa è ufficialmente la farm Spero Che anche questa farm Vi sia piaciuta Logicamente la andremo a utilizzare Ma più avanti Logicamente Perché altrimenti Sarà un po' un casino E Si possa raccogliere i dungeon Con il tocco di velluto Penso Più no Perché altrimenti Sarebbe un po' Overpower la cosa Però Ero tentato Di raccoglierlo E fare tipo Il fail più epico Della mia vita Comunque Ragazzi Adesso risalirò E andrò a preparare Un paio di cose Ma nel frattempo Ci vediamo in creativa Per parlare un attimino Della costruzione Del villaggio Ok ragazzi Rieccoci appunto In modalità creativa Questo è un esempio Di casa Che vorrei creare Appunto Nel nostro Villaggio Come vedete È una casa Molto semplice E Non ha niente di particolare È soltanto Io mi ho dato così Piuttosto carina Vedete È semplice Il bello di questa casa È che è semplice Sì È semplice Non posso aggiungere altro Ragazzi A me Mi gusta così Mi gusta così ragazzi Non vorrei aggiungerci più nulla Perché Mi piace Decorazione molto semplice Con una fornace Una crafting table E un letto Delle casse Delle piantine Delle luci Forse ho anche esagerato Un po' con le decorazioni Ma veramente Penso che sia il massimo Poi ancora che Ci saranno dei villager dentro Non ce ne saranno molti Perché appunto Questa qua sarà una porta sola Ne faremo molte Di case Così logicamente L'una è diversa All'altra Utilizzeremo vari stili Comunque Voglio andarvi adesso A farvi vedere una cosa Ovvero questa piccola zona di test Che ho creato per voi Praticamente Adesso io andando Su questa pressure plate Attiverò Questo circuito Che fa spawnare dei blaze Adesso metto di nuovo Un attino In pacifica Ok E poi di nuovo In difficile Perché così posso Mettere la game mode Che è Slash Game Mode Zero Ok Andare in modalità survival E andare a fare un piccolo test Con voi Allora il primo test Saranno due test Praticamente Il primo test sarà Vedere se i blades Mi vedono attraverso il vetro Ok Facciamo spawnare un paio Ok Sembra che non mi vedano No Per niente Perché come vedete Sono spenti Fanno solo fumo Invece il blades Quando mi vede Comincia ad accendersi Adesso vi faccio anche vedere Infatti adesso ne andrò a affrontare Ben due Allora Facciamo spawnare il primo blades Eccolo Come vedete Si accende Però adesso siamo in un campo Piuttosto ampio E per lui è Molto difficile Anche se io non ho armature E nient'altro Uccidermi Dai su Provaci Come on Quasi Bravo Comunque Adesso andrò a ucciderti Con una spada di legno E Teoricamente Se proprio ho paura Di bruciare Posso fare un'altra cosa Ovvero Adesso mi faccio colpire Un secondo Dai colpiscimi Mamma mia se sei storto Amico ma Sparami Fammi del male Sono fermo Sparami Ok ragazzi E' completamente scemo Bravo Ce l'hai fatta Mi butto Addosso questa pozione Di resistenza al fuoco E adesso non mi può far niente Guardate Io me ne storo qua Tranquil Cos'è stato Mi puoi far del danno Ah no Forse è stato la No cos'è stato quel danno Che ho preso Non lo so Comunque adesso io posso fare il danno Con l'acqua E posso anche tranquillamente Ammazzarlo Persino una spada di legno Veramente con la pozione Di resistenza al fuoco Non mi fanno assolutamente nulla E No Stupido Blades Del cavolo La mia casa La mia casa Tutto il lavoro Beh tanto era un progetto incredibile Però tutto il lavoro Che ho fatto Non è giusto Si Troppo cattivo Blades Troppo cattivo Via Spenniti Stupido fuoco Stupido fuoco Spenniti Oddio Oddio No ma Spero che state contenti Perché guardate come avete ridotto la mia casa Adesso sono riuscito a dominare L'incendio Ma non è dominare Domare l'incendio Però ma tutto il lavoro mio Distruggiamo tutto Va bene Stiamo calmi Comunque Me la pagherete cara Perché adesso farò una farm su di voi E Brucerò tutto quanto Le vostre verga Infatti come vi ho detto Nelle scorsi episodi Mondo di cubi Nel frattempo metto pure giorno Che Si mette così Perfetto Praticamente La verga di blaze E' un ottimo combustibile E Noi andremo a utilizzare Questa verga di blaze Per cuoce tutte le ceste Di stack e stack e stack Di cobblestone Per farle diventare stone E infine E trasformarli in Mar Oddio non Marmol brick Ti prego Fer Stone brick Gli stone brick appunto Saranno uno dei blocchi principali Che utilizzeremo Per la costruzione Delle case Dei villager Niente ragazzi Adesso appunto Direi che comincio La preparazione Della Farm Di blades E ci vediamo Tra poco Ok ragazzi Eccoci siamo Nella fortezza Come vedete qua Abbiamo due dungeon Abbiamo uno qui Un pochettino Glitchato E uno qua Allora Noi praticamente Con questi due dungeon Potremmo fare Probabilmente le faremo Ben due farm E direi che Per ora Cominciamo a fare La farm Di qua Per due motivi Prima di tutto perché Odio avere questo glitch Cioè mi da veramente Fastidio E secondo Perché Rispetto all'altro Qua arriva Prima a terra Come vedete Adesso senza cadere Magari in un lago di lava Ecco Come vedete Arriva prima a terra Ah e quasi dimenticavo E vi ricordo Che sono in modalità Pacifica Perché per lavorare Queste cose Preferisco tenere La modalità pacifica Allora Adesso Io praticamente Farò uno scavo Piuttosto grande In questa zona Adesso senza rompere Magari il mob spawner Stando appunto Attento Vado a fare uno scavo Di 5 Blocchi In ogni In ogni direzione O meglio In ogni lato Del Blocco Quindi 5 blocchi Di qua 5 blocchi di là 5 blocchi di qua 5 blocchi di là 5 blocchi di su E 5 blocchi di giù E appunto Così otterremo Un buono spazio Dove cominciare a lavorare Ok ragazzi Rieccoci E come vedete Ho fatto uno scavo Molto grande E ho praticamente Distrutto tutto Penso che Dovò distruggere Persino questa Colonna E poi ricrearla Magari quando la farm Sarà conclusa Ho scoperto Anche una piccola cosa E ovvero Questi due spawner Sono molto Molto vicini Credo che sia possibile Fare una farm Che Lavora Con entrambi I mob spawner E poi appunto Magari li convoglia Nello stesso punto O qualcosa del genere Credo che sia appunto Possibile E però appunto Lo vedremo In un altro video Ragazzi Perché Il tempo A nostra disposizione Per oggi È finito Io come solito Vi ringrazio Per tutti i like Per tutti i commenti E per tutte le iscrizioni Veramente Un ringraziamento Speciale a tutti Come al solito Anche per tutti Mi piace la pagina Facebook E niente ragazzi Quindi Io spero che il video Vi sia piaciuto E non mi resta che Salutarvi Chiedervi se Appunto Lasciate con questa domanda Vero se secondo voi Due spawner Sono abbastanza vicini Da poter Essere Diciamo Utilizzati contemporaneamente Magari potremo fare Una specie di Pista Di rail Che continua A farci girare Continuamente E attivarle entrambi Però Non lo vedremo di certo In questo episodio Perché appunto Il tempo come oggetto È finito E credo che Sarà comunque Un grande progetto Che richiederà Molto tempo Io appunto Non ho altro da fare Se non ringraziarvi Come al solito Salutarvi E darvi appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti